Ghezzala, voleva ancora servire all'interno per Rispoli, va lì, ecco il trattacco Tevez, resiste a un fallo Tevez, Tevez sta solo, Tevez, Tevez, Tevez è al limite dell'area, li fa fuori tutti Tevez, si apre la porta Tevez, gol, 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 gol! Locatelli sbaglia, Fagioli ci mette il piede, Fagioli butta la porta, Fagioli ancora, raso terra, Di Maria! Di Maria! È un gol fantastico, quello del Fideo, sinistro a giro, fermo la Fonda! Grazie per la visione. Grazie per la visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti